Sì, è stata un'operazione molto complessa, complessa per tanti motivi, sia per la tipologia di attività investigative che abbiamo dovuto svolgere, che alla fine è stato un insieme di attività tradizionali, di appostamenti, pedinamenti, lunghe ore di attesa, supportate da un'intensa attività tecnica. Complessa soprattutto per la tipologia dei reati, questo non agevolato il compito perché spesso le vittime erano persone anziane che vivevano da sole nella loro abitazione, che erano state vittime di delitti efferrati, lesioni, azioni violente, minacce. L'operazione è stata ribattezzata Vampiri, tanta era la loro sete di denaro. I carabinieri della compagnia di Stradella hanno smantellato la banda responsabile della lunga serie di furti e rapine commessi nell'ultimo anno e mezzo, inoltre Po. Sono 23 le persone finite in manette, 18 di loro, si trovano ora in carcere tra i domiciliari e due sono stati sottoposti all'obbligo di dimora. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione per delinquere, rapina, furto, ricettazione e porto abusivo di armi. Altre 11 persone sono invece accusate di ricettazione perché avevano acquistato parte dell'area furtiva, ben sapendo che si trattava di oggetti rubati. I carabinieri hanno accertato ben 132 episodi tra furti e rapine commessi soprattutto inoltre Po, tra Canneto, Pavese, San Damiano Alcolle, Castana, Santa Maria della Verse e Casteggio, ma la banda si spingeva spesso anche fuori provincia, nel Piacentino, in Brianza, a Brescia e Cuneo. I 23 arrestati sono di nazionalità albanese, Moldava, Romena e Kosovara, ma il loro punto di riferimento era un insospettabile cittadino di Casteggio, titolare di un comprorio di un'agenzia immobiliare, che non solo faceva da ricettatore, ma spesso indicava anche gli obiettivi da colpire e commissionava furti di oggetti di valore. Nel corso dell'operazione sono state eseguite anche diverse perquisizioni domiciliari che hanno permesso di ritrovare buona parte dell'area furtiva. Si stima che il valore della merce rubata dalla banda superi abbondantemente il milione di euro. Vuole essere un riconoscimento per l'attività svolta dall'arma dei carabinieri e dalle forze di polizia in genere e per quanto possibile un messaggio alla gente, alla popolazione, nel senso che non sempre magari si riesce ad arrivare ad identificare il o i responsabili o tutti quanti. Quello che rimane fermo è l'impegno costante, un impegno sottotraccia, che ovviamente non può essere sbandierato anche di fronte appunto a queste richieste da parte della popolazione. Al di là dei risultati che in questo caso pare esserci stato, il messaggio importante è che comunque nulla viene lasciato al caso, cioè lavorare si continua a lavorare.